Musica Frana SS19 delle Calabria e Pessolano, 54 imprese hanno risposto al bando, speriamo che per agosto partano i lavori. Export, dati positivi per l'esportazione, nel sud Italia cresce l'esportazione nei prodotti agroalimentari. Santa Ersenio, tutto pronto per la seconda edizione di Fare Rete per strade sicure. Atena Lucana, il 26 febbraio, giornata del migrante, un concerto con i ragazzi ospiti dei centri di accoglienza. Sport, calcio, il Valdiano incontra la Palmese, basket, diesel tecnica, al palo a Zingaro per il riscatto. Buongiorno, bentrovati con l'appuntamento con l'informazione di Uno News. In apertura torniamo a parlare della Frana sulla SS19 delle Calabria. Sono passati infatti poco più di tre anni dalla Frana al chilometro 46 della strada statale nel comune di Auletta, un'arteria di fondamentale importanza che ha isolato diverse famiglie. Il 7 febbraio scorso era il termine ultimo per presentare l'offerta e partecipare alla gara d'appalto per il progetto di ripristino del tratto interessato. Sulla vicenda si è espresso il sindaco di Auletta, Pietro Pessolano, che ai nostri microfoni ha rivelato il numero delle imprese che hanno presentato l'offerta. Inoltre ha dato speranze circa l'inizio dei lavori entro la prossima estate ed ha sottolineato come tra i parametri indicati dall'ANAS la realizzazione di un percorso alternativo adeguato abbia un peso rilevante nella scelta dei tecnici. Ma ascoltiamolo. Dal 7 febbraio, quando è stata data ultima per la presentazione delle offerte, io sono ripassato all'attacco. E stamattina, facendo un riepilogo con l'ingegnere Montecurlo, abbiamo detto, lui ci recitava, ne abbiamo fatte di battaglie, perché devo dire con tutta sincerità, le battaglie le abbiamo fatte insieme, per i pareri, l'ultimo parere della V, parere all'autodera di bacino, parere alla sovredendenza, tutti i pareri da ottenere. Però finalmente siamo arrivati a un primo risultato. Il primo risultato qual è stato? Quello che finalmente l'istruttoria dell'attività amministrativa della Gara è stata completata. Adesso c'è un termine di non so di quanti giorni per eventuali anomalie che le offerte, che le imprese che hanno fatto l'offerta devono spiegare. Subito dopo, l'ingegnere Brisco, capodipartimento di sua competenza, dovrà nominare la commissione tecnica fatto questo, dovranno vogliare la migliore offerta e quindi poi arriveremo finalmente a questa maledetta, dico maledetta, e quindi inizio questi inizi di lavori. Penso, questo è il calcolo che ci siamo fatto anche con l'ingegnere Brisco stamattina, penso che per l'estate, per santo nato e come oso dire io, i lavori dovrebbero cominciare. Eventualmente poi noi speriamo che non ci siano ricorsi particolari, però se si limitano anche a fare ricorsi, soltanto ricorsi amministrativi, il tempo è breve, sperando poi che a giudicarsi a giudicarsi l'apparto sia un'impresa che voglia fare i lavori e non voglia cominciare solo, voglia vincere la gara solo eventualmente per fare dei contenziosi, perché poi ci sta anche questo, sta nel rischio. Noi ci auguriamo che non succeda tutto quanto e che i lavori cominciano presto, noi una sola cosa abbiamo preteso da mettere nella gara d'apparto, quella che nell'offerta migliorativa si prevedesse un percorso alternativo. Infatti questa è stata ricepita nel bando e hanno messo 15 punti a chi offriva, a chi dava un percorso alternativo degno ai nostri concittadini. Le ditte che hanno presentato l'offerta sono 54, sono abbastanza, sono troppe. Sono sicuramente forse un segno positivo perché forse sceglieranno tra 54 offerte però questo è anche un segno che in Italia purtroppo il lavoro manca. Cambiamo argomento, i recenti dati ISAT hanno evidenziato un netto miglioramento delle esportazioni rispetto invece alle importazioni nel 2016, infatti a fronte di un calo delle importazioni dai paesi esteri si registra invece un netto aumento dei prodotti che vengono esportati. Anche il sud Italia contribuisce in modo significativo a questo dato con l'esportazione di prodotti agroalimentari. Torna quindi ad essere apprezzato dentro e fuori l'Italia il made in Italy. Vediamo. Cresce l'export e cresce soprattutto l'esportazione nel settore agroalimentare con ottimi dati anche per il sud Italia. Si confermano quindi i dati preventivi presentati da Svimez lo scorso ottobre per l'anno 2016 in cui era stata anticipata una crescita sostanziale del mercato agroalimentare anche in termini di esportazioni. Le conferme di questi dati arrivano dall'ISTAT che ha parlato in generale di una crescita dell'export che si sta avvicinando sempre più ai dati dell'import. Dati che però interessano i prodotti industriali che fanno registrare rispetto al 2015 un aumento delle esportazioni ed una diminuzione delle importazioni. Dalle pagine del mattino emerge però un'analisi ben più appropriata con dati favorevoli per il meridione d'Italia. Su un totale dell'export nazionale di tutti i prodotti per 417 miliardi di euro 38,4 miliardi derivano dal comparto agroalimentare con una grossa fetta del totale generale che è stata prodotta e distribuita dalle regioni del sud Italia. Altro dato importante è l'ottimo risultato della regione Campania che ha contribuito per oltre 2 miliardi di euro nel 2016 facendo registrare un aumento dell'1% rispetto al 2015. Dati negativi invece provengono dalla Puglia e dalla Sardegna. Il futuro del Made in Italy quindi lascia ben sperare seppur in una condizione di incertezza della politica internazionale che secondo Coldiretti potrebbe preoccupare visti i casi recenti della Brexit la nuova politica protezionistica di Trump e le future elezioni in Francia e Germania. Restano però delle certezze legate in particolare ad una maggiore attenzione ed ad un più elevato gradimento del prodotto agroalimentare italiano soprattutto negli Stati Uniti. Tra i prodotti maggiormente richiesti all'estero vi è il vino e l'olio in ogni caso l'esportazione si conferma tra le prevalenti misure per riaccendere l'economia italiana. Il trend positivo degli ultimi anni fa pensare ad un maggiore interesse verso il Made in Italy che potrebbe essere la giusta opportunità per rilanciare soprattutto le regioni del mezzogiorno. Parliamo ora di sicurezza stradale. L'associazione La Stanza di Gio torna nelle scuole con la seconda edizione di Fare Rete per strade sicure. Questa mattina primo appuntamento presso le scuole elementari di Sant'Arsenio. l'associazione La Stanza di Gio torna nelle scuole del Vallo di Diano per promuovere il progetto di formazione dedicato all'importante tematica della sicurezza stradale dal titolo Fare Rete per strade sicure. Questa importante iniziativa aggiunta alla seconda edizione vuole porre l'attenzione sulla sicurezza stradale analizzando anche le abitudini scorrette dei pedoni al fine di sensibilizzare il cittadino in ottica di prevenzione. I protagonisti degli incontri previsti dal progetto sono gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie del Vallo di Diano con la prima giornata tenutasi questa mattina presso la scuola elementare di Sant'Arsenio dove dopo un primo momento di formazione in aula con gli scolari si è passati alla simulazione pratica dei comportamenti che i pedoni devono tenere sulle strade per prevenire ed evitare incidenti nelle nostre zone sempre più frequenti. Alternando didattiche svago vogliamo lavorare sulla prevenzione dichiara Donato Cafaro referente dell'associazione La Stanza di Gio in un territorio dove la mortalità per incidenti stradali tra i giovani è drammaticamente alta con iniziative di questo genere si vuole educare la persona già in giovane età quindi al rispetto delle regole stradali in modo da incentivare maggiori riflessioni sulle conseguenze spesso irreparabili delle trasgressioni così da ridurre le morti per incidente stradale che si verificano ogni anno purtroppo in via crescente sulle nostre strade domenica 26 febbraio ad Atena Lucana Scalo nel piazzale Antistante il centro commerciale di Ano si terrà un concerto che come spiegato dal vice sindaco di Atena Lucana Sergio Annunziata è finalizzato a sensibilizzare le istituzioni verso una politica seria che sia in grado di arginare il triste fenomeno delle migrazioni lo scorso 15 gennaio la chiesa ha celebrato la giornata del migrante e del rifugiato un appuntamento che ha voluto ancora una volta porre l'attenzione sul triste fenomeno che purtroppo fa contare milioni di vittime un fenomeno che coinvolge direttamente anche il Vallo di Diano con numerosi centri di accoglienza che nel loro piccolo tentano di offrire ai migranti quell'opportunità e quella speranza di futuro migliore che li ha spinti ad affrontare il terribile viaggio a distanza di oltre un mese e anche per mantenere sempre alta l'attenzione sul fenomeno della migrazione per domenica 26 febbraio ad Atena Lucana l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Pasquale Iuzzolino ha organizzato un concerto di musica pop coinvolgendo gli ospiti dei centri di accoglienza presenti nel comune il centro Liveto e la Caritas l'evento organizzato con la compartecipazione di eventi promotion e del centro musica store di Padula Scalo si terrà le ore 17.30 presso il piazzale antistante il centro commerciale di Ano il concerto prevede l'esibizione del trio acustico pop d'autore con gli allievi della Miriamusa Musical School e degli ospiti del centro di accoglienza con questo spettacolo spiega Sergio Annunziata vice sindaco di Atena Lucana vogliamo cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica e il governo verso il fenomeno che vede uomini donne e bambini lasciare la loro terra in cerca di un futuro auspichiamo un serio intervento presso i paesi di origine affinché ognuno possa vivere e avere un futuro certo nella propria patria l'Europa prosegue il vice sindaco di Atena deve dar vita ad una politica seria per fermare questo fenomeno e non vivere più di attesa e subirlo lasciando nelle mani di volontari associazioni e singoli paesi la solidarietà e l'accoglienza verso questi sfortunati cittadini con questo concerto conclude Annunziata speriamo attraverso la musica possa aggiungere a chi ha responsabilità di governo di porre fine a questa vergogna e mancanza di rispetto della vita Nuovo incontro a Polla per discutere di tutela del territorio con particolare attenzione rivolta alla tutela delle falde acquifere in considerazione delle nuove istanze avanzate da Shell Italia per chiedere di effettuare sondaggi petroliferi martedì prossimo 21 febbraio alle ore 18.30 presso il convento di Sant'Antonio a Polla si terrà l'incontro promosso dal comitato se non ora quando Vallo di Diano dal comitato curo con il patrocinio del comune di Polla dal titolo SOS Acqua un impegno contro le perforazioni petrolifere ad introdurre lavori sarà Rosi Pepe responsabile del comitato se non ora quando dopo i saluti del sindaco Rocco Giuliano sono previsti gli interventi di Raffaele Cammardella agronomo Antonio Petrocelli geologo Albina Colella ordinaria di geologia all'Unibas Franco Ortolani ordinario di geologia presso l'Università Federico II di Napoli Monsignor Antonio De Luca vescovo della diocesi di Teggiano Policastro le conclusioni saranno affidate all'assessore regionale al turismo Corrado Matera che ha sollecitato l'onorevole Giuseppe De Mita per l'inserimento di un emendamento alla riforma della legge sulle aree protette legate proprio alla vicenda delle perforazioni petrolifere e cambiamo argomento andiamo a Monte San Giacomo dove domani sera torna con il quinto appuntamento la rassegna teatro a Casa Marone a salire sul palcoscenico di Palazzo Marone con la commedia O.R.E. la compagnia Bianconiglio di Eboli vediamo Resta tutto pronto a Monte San Giacomo per il quinto appuntamento della rassegna di teatro amatoriale Teatro a Casa Marone domani sera alle ore 19 l'associazione organizzatrice Terenzio Castella ospiterà la compagnia Bianconiglio di Eboli che porta in scena lo spettacolo O.R.E. una commedia in due atti scritta e diretta dall'ebolitano Bruno Di Donato è un'opera di fantasia ispirata al re di Napoli Ferdinando I di Borbone che nell'ottobre del 1759 a soli otto anni ereditò il trono napoletano e nel maggio del 1768 sposò giovanissimo Maria Carolina d'Asburgo Lorena figlia dell'imperatrice Maria Teresa una commedia agrodolce quella proposta domani sera e che racconta dei momenti antecedenti alla visita fittizia di Napoleone Bonaparte tra fraintendimenti e ritmo la storia è ambientata all'interno della camera da letto del re che farà da scenografia per un tranello ordito dal consigliere fidato Gen Acton storicamente sospettato di essere l'amante della regina Maria Carolina anche quest'anno dunque per la 14esima edizione di teatro a Casa Marone l'associazione Terenzio Castella con la collaborazione del comune di Monte San Giacomo e della banca Montepruno sta proponendo un cartellone di tutto rispetto al pubblico ormai appassionato mettendo in risalto la dedizione e l'impegno di chi fa teatro a livello amatoriale restituendo all'aggettivo amatoriale l'accezione profonda di opportunità formativa e aggregativa che contribuisce alla crescita culturale e sociale della comunità con cui viene in contatto il 5 marzo alle ore 18 si terrà la replica dello spettacolo realizzato dalla compagnia culturale Sant'Arsenio ieri, oggi e domani dal titolo questa volta te lo dico che ti amo a grande richiesta e dopo il successo e gli applausi raccolti negli appuntamenti della rassegna del festival teatrale santarsenese i giovani artisti della compagnia teatrale saranno nuovamente in scena con lo spettacolo che ha fatto divertire particolarmente il pubblico incuriosendo anche chi non aveva avuto modo di partecipare alla serata per sopraggiunti problemi invece lo spettacolo in replica previsto per il 26 febbraio non sarà realizzato il prossimo appuntamento quindi al teatro Giuseppe Amabile di Sant'Arsenio con la compagnia Sant'Arsenio ieri, oggi e domani sarà il prossimo 5 marzo e ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria riprenderemo tra pochissimo con il resto delle nostre notizie restate con noi bentornati alla seconda parte del nostro Tg parliamo di sport tornano i campionati e tornano in campo anche gli arbitri della sezione Aia di Sala Consilina seconda designazione consecutiva per Manuel Robilotta in Serie B oggi ancora in campo Manuel Robilotta che dopo un inizio campionato turbolento sta trovando conferme nel suo ruolo di assistente arbitro della Serie B prima stagione in campi per il giovanissimo arbitro della sezione di Sala Consilina che ogni sabato può essere seguito sulle reti Sky essendo la PTV detentrice dei diritti televisivi della Serie dopo la designazione importante per la gara che ha visto impegnato l'Ellas Verona di Pazzini ad Avellino disputata la scorsa settimana Manuel Robilotta viene nuovamente scelto come secondo assistente in gara di campionato di Serie B che alle 15 di oggi sabato 18 febbraio vede la sfida tra Perugia e Dentella sul campo dello stadio Renato Curi una doppietta importante una seconda immediata chiamata può infatti anche rappresentare un segno di interesse verso l'assistente e soprattutto un segno di fiducia da parte dei designatori nel lavoro svolto dall'arbitro un importante segnale quindi anche per i giovani arbitri della sezione di Sala Consilina che potranno così rendersi conto che quando si lavora con passione dedizione, sacrificio e rispetto del proprio ruolo si possono raggiungere importanti traguardi anche se arrivi da una piccola sezione di provincia come la sezione AIA di Sala Consilina una piccola sezione che però sta esprimendo e portando su grandi palcoscenici sempre un gran numero di arbitri fine settimana impegnativo infatti anche per il presidente della sezione Giampiero Cafaro il segretario Giuseppe Aumenta impegnati come arbitro 1 e cronometrista nella gara tra ADV Campobasso e Futsal Ruvo con le squadre in campo oggi alle ore 16 nel campionato di calcio A5 Serie B Passiamo ora al calcio giocato dopo la sconfitta di misura in casa dell'FC Sorrento il Valdiano ospita la Palmese di Soviero per riprendere la sua marcia verso la salvezza diversi dubbi di formazione per il tecnico alla vigilia del match Ritorna tra le mura Michel Valdiano che dopo aver rimediato la sconfitta in costiera contro il Sorrento domani pomeriggio affronterà ancora una volta sul sintetico di Casalbuono la Palmese la sconfitta di sette giorni fa ha lasciato un po' di amaro in bocca visto che è maturata al termine di una buona prestazione e ci è voluta la giocata di un singolo per risolverla oltre al danno anche la beffa dell'infortunio di Capitano Farano ha reso ancora più indigesta la sconfitta Farano che non sarà disponibile domani contro la Palmese e potrebbe rientrare a marzo ma le sue condizioni sono costantemente monitorate dallo staff sanitario Blaugrana per la gara di domani i dubbi di formazione sono legati all'utilizzo meno dal primo minuto di Scibele Sorriso e Casella la rifinitura di domani dissiperà qualche dubbio ma non lo chiarirà del tutto sarà anche domani una gara difficile nel conscio mister Criscuolo che alla vigilia ha caricato la squadra al meglio chiedendo di riprendere subito il cammino interrotto sette giorni fa di fronte la Palmese che viaggia in una zona abbastanza tranquilla della classifica a Palma Campana all'andata il Valdiano ha conquistato il primo punto della sua stagione vincere manca a dirlo è fondamentale per cercare un primo timido a lungo dalla zona play out molto dipenderà da come sempre dall'approccio alla gara dalla voglia che si metterà in campo per ottenere i tre punti visti gli acciaccati e le assenze non sarà un'impresa facile tutte le gare sono difficili a maggior ragione se la coperta inizia a ripicciolirsi a causa degli infortuni passiamo ora al basket con la diesel tecnica pallacanestro Trinità che scende in campo ancora tra le mura amiche dopo la sconfitta interna con l'ippo basket Salerno ora è chiamata al riscatto mi aspetto chiaramente subito una reazione per restare lassù queste le parole di coach Durante che la vigilia del match della diesel tecnica pallacanestro Trinità contro il Kuros Napoli chiede ai suoi di ritornare al successo dopo la sconfitta casalinga contro l'ippo basket Salerno sarà ancora una volta il palazzingaro il teatro di De Vita e compagni che contro la compagine napoletana giocheranno la prima giornata del girone di ritorno per la sfida di domani il coach dovrà fare a meno ancora una volta di Dragoni che ancora non ha ripreso ad allenarsi con il gruppo mentre rientra Siga anche se è da escludere un suo impegno sulla carta è una gara abbordabile per la diesel tecnica anche se sarà necessario il giusto approccio al match per non rischiare in quest'ottica l'aspetto mentale è quello più importante la differenza tecnica tra Kuros Napoli e Ipo Basket Salerno è tanta e quindi potranno venire in meno gli stimoli del grande match che erano invece a bizzeffe sette giorni fa la sconfitta contro l'Ipo Basket Salerno è maturata in condizioni di emergenza oltre all'assenza la diesel tecnica è scesa in campo incerottata Antonucci aveva un problema alla caviglia di somma con la febbre nonostante questo la squadra ha avuto anche l'occasione per allungare la sfida all'overtime segno che il gruppo ha valori tecnici e mentali importanti che dovrà riproporre sul campo domani sera al Palazzing dove continuare a restare in vetta alla classifica e con la pagina sportiva chiudiamo il nostro TG io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata per averci seguito